Allora, abbiamo parlato oggi dell'oncologia pediatrica con un particolare focus sul mondo degli adolescenti. Abbiamo detto che per adolescente si intende un ragazzo dai 15 ai 19 anni e che di questi ragazzi circa 800 se ne ammalano oggi in Italia. Abbiamo detto che i ragazzi possono guarire ma che devono ricevere le migliori cure e le migliori strategie terapeutiche. Abbiamo visto tre problemi principali che ogni medico che si occupa di queste patologie affronta ogni giorno. Abbiamo visto la minore probabilità di guarigione degli adolescenti rispetto ai bambini e abbiamo detto che a parità di malattia e di stadio un adolescente ha minori probabilità di guarigione. Abbiamo visto in particolare la sopravvivenza a cinque anni di tre patologie. La sopravvivenza a cinque anni per una leucemia linfoblastica acuta nei pazienti di età inferiore ai 15 anni è dell'86%, mentre per i pazienti tra i pazienti tra i 15 e i 24 anni è del 56%. La stessa sopravvivenza a cinque anni per i bambini affetti da rabdomiosarcoma è del 67%, mentre per i ragazzi dai 15 ai 24 del 49%. Lo stesso vale per il sarcoma di Ewing, la sopravvivenza a cinque anni nei pazienti di età inferiore ai 15 anni è del 67%, mentre per i pazienti tra i 15 e i 24 anni è del 38%. Abbiamo detto poi che il medico affronta anche la difficoltà di accesso alle cure e ai protocolli di questi giovani ragazzi e che l'essere non arruolati nei protocolli clinici e il non essere trattati nei centri di riferimento si associa, si correla a una maggiore mortalità. Quindi i bambini in un certo senso hanno maggiori probabilità di guarigione rispetto agli adolescenti che non sono trattati appunto nei centri di riferimento e nei trial clinici. Abbiamo poi affrontato il problema del ritardo diagnostico e abbiamo visto per quali motivi i giovani adolescenti tendono a tardare alla visita con l'oncologo pediatra. Abbiamo detto che un po' è colpa del paziente stesso che tende a sottovalutare il sintomo che tende ad avere sfiducia nella figura medica, che tende ad avere anche un senso di invincibilità. quindi lui non si può ammalare di tumore. Abbiamo detto che è anche colpa del medico che non fa andare il paziente subito dall'oncologo pediatra ma può sottovalutare esso stesso il sintomo. Per tutti questi motivi il paziente arriva tardi e arrivare tardi alla diagnosi significa avere una prognosi peggiore. Abbiamo visto un po' di dati anche in questo caso abbiamo detto che il ritardo diagnostico per i pazienti dei 0 ai 14 anni ha una mediana di 47 giorni e abbiamo visto invece che la mediana per il ritardo diagnostico nei pazienti superiore ai 15 anni è di 137 giorni, quindi ben più alta rispetto ai pazienti più piccoli. Stiamo parlando sempre a parità di malattia e di stadio. Il problema con gli adolescenti però non riguarda solo la patologia ma è un problema molto più ampio che interessa la sfera non solo fisica ma anche psichica del paziente stesso. Abbiamo detto che il medico si trova di fronte a comunicare una diagnosi importante come quella del tumore a un paziente giovane e quindi deve sapere adattare il linguaggio e anche non solo quello verbale ma anche quello fisico a seconda del paziente che ha davanti e a seconda della consapevolezza che il paziente che abbiamo di fronte ha della propria malattia. Abbiamo detto che il medico deve tenere conto dei peculiari bisogni psicologici anche spirituali del paziente ma anche degli aspetti comportamentali della sessualità, della scuola, del lavoro, del rapporto con i coetanei e deve tener conto anche della compliance ai trattamenti. Abbiamo detto che il medico deve tenere conto della necessità di privacy, degli spazi dedicati e della riduzione dell'ospedalizzazione. Bisogna cercare di trattenere il paziente in ambito ospedaliero il meno possibile. E poi abbiamo affrontato anche brevemente il problema della preservazione della fertilità. E quindi con la voglia di creare un ambiente adatto ai ragazzi è nato il progetto Giovani nel 2011 che si occupa di non solo migliorare e standardizzare alcuni aspetti clinici abbiamo detto i protocolli di cura, il supporto psicosociale ma anche creare degli spazi dedicati ai ragazzi. Quindi insomma vi ho illustrato un po' gli spazi dedicati a loro e i progetti per cui loro sono impegnati nello sport, nella musica, nel teatro insieme per affrontare questo periodo particolare della loro vita. Abbiamo detto poi che bisogna avere un rapporto di fiducia col proprio paziente ma soprattutto con i pazienti di quest'età. Se non si crea fiducia non c'è aderenza ai trattamenti, non c'è compliance ai trattamenti e quindi diciamo che questa ruota gira un po' intorno alla fiducia in questo modo si può dare speranza e ci si può prendere cura al meglio del paziente. E con questo termino l'esercizio di consecutiva.